Ciao ragazzi, benvenuti dal vostro Handyman. Quest'oggi ci occuperemo di un argomento abbastanza comune che tuttavia ogni tanto tendiamo a commissionare ad un tecnico specializzato la sostituzione dei copertoni della bicicletta. Io sono un appassionato di mountain bike, ora sta cominciando la stagione piovosa e quindi da un utilizzo prevalentemente sterrato si passerà ad un utilizzo prevalentemente su asfalto. Io ho un treno di copertoni in tubeless che utilizzo durante la stagione estiva per un utilizzo prevalentemente off-road e ho un treno di copertoni con camera d'aria che utilizzo prevalentemente in inverno quando la stagione piovosa rende le zone boschive poco praticabili. Nel video di oggi effettuerò la sostituzione del treno estivo, quindi tubeless, con il treno invernale, quindi camera d'aria. La procedura di assemblaggio del copertone con camera d'aria è praticamente applicabile a tutte le biciclette. Quindi diamo subito un'occhiata alla lista del materiale. Quindi prendete carta e penna e segnate. Leve per smontaggio copertoni. Pinza smagliacatena. Non è strettamente necessaria, tuttavia può risultare estremamente utile. Alcuni stracci che serviranno ad asciugare il lattice che fuoriuscirà dai copertoni in tubeless durante lo smontaggio. Un paio di pinze universali. Un po' di detersivo per piatti da diluire in acqua. Compressore o pompa per gonfiare le gomme. Per quanto riguarda tempi e costi abbiamo. Il costo delle leve per smontare i copertoni è di circa 8 euro. La pinza smagliacatena la potete trovare praticamente da tutti i prezzi. Personalmente ritengo che un prezzo di 10 euro sia più che ragionevole. Le pinze standard che io ho utilizzato per smontare la ghiera della valvolina tubeless è sufficiente anche che siano di primo prezzo. Un prezzo di 6-7 euro è più che ragionevole. Il tutto si può eseguire in circa 30 minuti di lavoro. È un'operazione di tipo medio, quindi occorre un minimo di manualità. Specialmente durante la fase di montaggio del copertone. Il quale può essere estremamente duro da fare salire. In ogni caso non spaventatevi. Se seguite punto per punto non avrete nessun tipo di problema. Quindi bando alle ciance e mettiamoci subito all'ocara. Allora, prima cosa da fare è fare scorrere la catena sul pignone più piccolo. Seconda cosa da fare è togliere la falsa maglia. Quindi individuare la falsa maglia e farla scorrere qua sotto. A questo punto, se avete il blocco del deragliatore, vi consiglio di utilizzarlo. Andiamo ad aprire la catena con l'apposita pinza. Ora possiamo sfilare la catena. A questo punto dobbiamo smontare la ruota. Nel caso abbiate i bloccaggi quick release, basta semplicemente aprirli. Inoltre qua abbiamo i freni a disco. Se avete i freni a panetti, dovete aprire le leve prima di poter smontare la ruota. Per smontare la ruota anteriore, dobbiamo procedere in questo modo. Il nostro copertone è un copertone tubeless. Ora rimuoviamo la valvolina e quindi sgonfiamo completamente la gomma. Ora andiamo a stallonare il copertone. Ora togliamo il copertone. Copertone in tubeless, quindi occhio al lattice. Vi consiglio di utilizzare qualche straccio. A questo punto, dato che dobbiamo passare da tubeless a camera d'aria, dobbiamo smontare questa valvolina qua. Ricordatevi poi di riposizionare il tutto come era prima. Ora andiamo a montare i copertoni nuovi sul cerchio. Per fare stallonare meglio il cerchio durante il montaggio, vi consiglio di utilizzare questa soluzione. Si tratta di semplice detersivo per piatti diluito in acqua. Va semplicemente spalmato sul fianco del copertone, in modo da rendere più facile il tallonamento. Inoltre rispettate il senso di rotazione del copertone se è richiesto. Lo trovate segnato sul fianco del copertone. A questo punto andiamo ad inserire la camera d'aria. Per facilitare il montaggio, sgonfiatela il più possibile. Cominciamo dall'alto, quindi mettete il foro di alloggio della valvola in alto. Soprattutto in questa fase è consigliato utilizzare questa soluzione, altrimenti può essere estremamente duro riuscire a far salire il copertone. Ora facciamo salire il copertone. Con la camera d'aria vi sconsiglio di utilizzare le leve, in quanto la possano danneggiare. Utilizzatele solo se non c'è altra soluzione. Ma se fate così, 99% delle volte non c'è bisogno delle leve. State sempre molto attenti a non pizzicare la camera d'aria, quindi spingetela su nel caso tenda ad uscire. Perfetto, muovete un po' il copertone per fare assestare la camera d'aria. Ora andiamo a gonfiare. Prima gonfiate appena appena, controllate e successivamente potete gonfiare definitivamente. Ok, la gomma anteriore è pronta. Faremo lo stesso identico procedimento con la ruota posteriore. Perfetto, muovete un po' il copertone. Ora dobbiamo semplicemente ripercorrere, al contrario le operazioni che abbiamo fatto durante lo smontaggio. Ora la nostra bicicletta è pronta finalmente per il nostro giro. Come vedete abbiamo cambiato le gomme tacchettate da sterrato con queste più consone un utilizzo da strada ma che consentono lo stesso anche un utilizzo semisterrato. Non dimenticate di ingrassare la catena ed ora andiamo a fare il nostro giro.